Ciao, in questo video di Blues vediamo un'idea ritmica a doppie terzine da fare sui box in La, sesta corda in La. Quest'idea ritmica, idea scalare, è costruita su questo box e su questo, che segue, no? Quindi fa ta 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 puoi anche legare leggero bending e risolviamo sulla tonica, quindi ti consiglio di dare un accento forte sul primo Si presta una pennata alternata giù su giù su Chiaro, quindi blenda meno Sto anche scomodo, insomma, per farti vedere, far vedere meglio, puoi anche fare con i salti string skipping, salto Un so si chiara ... ... però qui facciamo a quartine ... salti quindi sesta corda vai alla quarta quinda corda vai alla terza quarta seconda corda sul box stessa cosa prima corda terza seconda quarta terza corda quinta quarta corda sesta corda ti invito ad iscriverti al canale se sei nuovo e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche quando carico nuovi video quindi non perdi nessun video così e ti invito a vedere nella descrizione tutta la playlist 5 6 video gratuiti che fanno parte del corso blues 1 e 2 e noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da giampiero ciao un saluto da giampiero un saluto da giampiero ciao 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 ciao